buongiorno e buona domenica a tutti oggi voglio iniziare il video inizia la giornata con una diretta molto corta e anche semplice ma che fa comprendere quanto sia importante creare una relazione basata sulla libertà sul rispetto e sulla fiducia loro sono praticamente quasi sempre così se non quando andiamo un passeggio in città perché ovviamente è meglio andare al guinzaglio ma questo perché godersi il cane in questo modo appaga sia loro che anche me perché vederli così annusare soddisfare uno dei loro bisogni essenziali uscire da casa e non farsi una vita praticamente sempre in cortile o in giardino o c'è chi la fa in casa poveri cani soprattutto quelli di piccola taglia vivere una vita del genere da al cane una grande forma di appagamento e fa sì che si leghi ancora di più a te è ovvio che per arrivare a questo tipo di risultato non si può pensare di non l'ho mai fatto sento il video di quel tizio lì che dice che devi dargli fiducia devi dargli libertà e rispettare e rispettare il cane rispettare la natura e tutto funziona fosse così semplice sarebbe bello ma lo è semplice alla fine del dei conti occorre semplicemente rispettare alcuni principi sia a casa che fuori ed educare il cane per far sì che non scappi anche se non li vedete più adesso sono dietro la curva arrivate lì senza averli chiamati senza aver detto nulla questo è il bello di avere una relazione di fiducia io mi fido dei miei cani loro si fidano di me loro sentono si sono create delle delle forme di comunicazione che vanno al di là dei comandi ok che va al di là dei comandi oggi ancora troppe persone pensano che sia sufficiente dare comandi al cane per farsi ascoltare e non è così non è proprio così non lo sarà mai per fortuna occorre creare qualcosa di più quel legame magico che c'è tra te e il cane quel quel filo sottile e quasi invisibile che lega te e il cane è una cosa unica senza poi prova a pensare un attimo che bello andare in giro col cane senza parlare senza gridare senza continuare a sgridarlo richiamarlo no vieni qua dove vai fermo che divertimento c'è che piacere c'è nell'andare a passeggio con un cane e comportarsi così io lo vedo molto limitante e frustrante oltre che noioso perché non ha senso certo qualche cosa bisognerà a dirgli no ogni tanto una volta ogni tanto qualcosa glielo bisognerà dire ma è proprio una questione di abitudine di cambio di mentalità cioè basta pensare a quattro comandi in croce basta pensare a non mi dai un consiglio no non c'è nessun consiglio c'è un lavoro da fare un percorso di crescita attraverso l'educazione del cane che fa anche l'essere umano e se non impariamo noi esseri umani a comprendere ciò che la natura ci comunica e anche il cane in questo caso come possiamo pensare di vivere in un mondo che non è nostro nella terra che non è nostra perché inventiamo quattro stronzate pensiamo di essere intelligenti per carità lo saremo anche ma facciamo parte di del tutto e se non capiamo questo passaggio che per poter creare una collaborazione con un cane con un animale con un essere vivente qualsiasi occorre capire in profondità il cane se ci pensiamo tanto intelligenti dobbiamo arrivarci a questo discorso e a questo risultato come si può pensare mi dai un consiglio al mio cane soffre d'ansia d'abbandono un consiglio ci vanno due settimane per darti un consiglio che ti porti un risultato cioè è questo il concetto ok come si può pensare di ah il mio cane mi tira guinzaglio mi dai un consiglio eh ce ne sono un miliardo ah voglio arrivare al risultato che hai tu perfetto ti ci porto senza problemi a godere di questo tipo di rapporto col tuo cane qualsiasi esso sia cani da caccia cani primitivi malamut qualsiasi nessun problema come fai quello che ti insegno io che è quello che io faccio con i miei cani con i miei allievi eh però sai io non ho tempo e allora come puoi pensare di avere una relazione con un cane se non hai tempo come puoi pensare di avere risultati se non hai tempo non è un giocattolo il cane che prendo e poso a mio piacimento vero trini diglielo diglielo che non siamo giocattoli noi come si può pensare di arrivare a un risultato se uno non si dedica a comprendere ad apprendere determinate competenze in più ah io gli do il seduto quando lo vedo troppo agitato così lo calmo eh braute capito proprio niente del cane intanto bisogna capire perché si agita e capire come poterlo aiutare perché dargli il seduto e metterlo in una condizione dove magari lui ha paura non fai altro che peggiorare la situazione oppure eh ci sono miliardi le spiegazioni e non si possono dare consigli si può solo scegliere di fare un percorso per dare benessere al cane e per avere benessere te di conseguenza e visto che tutti tutti io compreso amato il cane e amiamo il cane e lo amo anche io perché non farlo proprio per dimostrargli quanto il cane dà a noi in termini di benessere perché è dimostrato scientificamente che i cani gli animali hanno su di noi sugli esseri umani soprattutto su tra virgolette i proprietari hanno una funzione di farci stare bene no di aiutarci a migliorare che ne sono una giornata andata storta arriva al cane ti guarda e tu non pensi più niente gli fai due coccole questa forma di pet therapy verso il proprietario no ok e allora perché non ricambiare quello che il cane ci dà imparando la psicologia la comunicazione per renderlo più sereno per renderlo ancora più felice ed appagarlo ancora di più è una forma di rispetto questa il resto si chiama egoismo mi scrivo ogni tanto ma se il mio cane ha nove anni fa ancora la pipì in casa secondo me non imparerà più e allora cosa devo dirti non mi interessa cercare di far cambiare idea le persone mi interessa cercare di di mettere un semino giorno dopo giorno nella coscienza delle persone per far sì che poi scelgano di fare un percorso perché un cane che a nove anni faccia pipì in casa non esiste proprio vuol dire che il cane non sta bene per cui se il cane non sta bene invece di dire secondo me non c'è più soluzione perché non impari a farlo stare meglio ah il mio cane non vuole uscire di casa ha paura compro le traversine sta lì bene che vita è una vita da segregato in casa che poi tra l'altro cane della casa non mi frega niente perché non è non è nato che poi il cane non è mai nato mai stato selezionato per vivere dentro una casa certo poi rispettando alcune alcuni concetti alcuni principi il cane se vive in casa si unisce di più al resto del branco ma questo sono altri discorsi per cui se ami così tanto il cane perché non fare un percorso di educazione per te per capire cosa il cane ha bisogno e poi vivertelo in modo più consapevole e rispettoso perché non farlo hai non c'è tempo e non c'ho soldi poi però vedi che vanno in giro con iphone telefonini nuovi mega extra pagati a rate si fanno le unghiette nuove le borsette fighe o ci compriamo i giochi nuovi che escono però poi per creare benessere quello lo vedo poco e lo vedo poco e questo è triste è triste perché poi alla fine il cane è un essere vivente uno non apprende cose per addestrare il cane uno apprende informazioni competenze per rendere la propria vita e la vita del proprio cane migliore ma questo è un passo ancora che va oltre aurora dice buongiorno christian sono felice di aver conosciuto e imparito grazie sempre buona passeggiata ps luce mattutina stupenda nel bosco sì è proprio fantastico e questo è grazie al cane cioè io è un'ora e più che sono in giro e ho aspettato che ci fosse un po di luce per farvi una diretta che fosse un po più carina ma tu che fortuna che hai no non si chiama fortuna la fortuna esiste solo quando tu impari a fare le scelte in modo consapevole quella non si chiama fortuna si chiama aver voglia di fare quando impari a fare scelte consapevoli fai di prendi delle decisioni ovviamente comporteranno ad altri tipi di rinunce e io ho rinunciato determinate cose per godermi questo non si chiama fortuna si chiama capacità di decidere ok capacità decisionale per quello che mi serve per quello che serve a me per quello che serve i miei cani in questo caso per quello che voglio vivermi però devi sapere chi sei per arrivare a questo ma qui andiamo già su un altro settore non era il fulcro della diretta ma quello che è importante fare e pensare è che se vuoi viverti questo ok non è fortuna viverti questo è impegno costanza e voglia di applicare cosa quello che si studia per poter viversi questo ok perché all'inizio io stesso con lo scurnacchiato che c'era davanti non non trinity ma con morfeo avevo problemi perché tirava scappava quello laggiù tirava scappava soffriva d'ansia d'abbandono le scelte erano viversi tutta la vita con un cane con dei problemi può imparare come risolvere questi problemi bene i primi due centri cinofili strattona il guinzaglio dagli wuster ma a me non interessava quello e poi ho fatto il corso per me per diventare istruttore e capire come rendere i miei cani felici all'epoca avevo solo morfeo dopo che ho reso morfeo felice ho capito io come rendere felice il mio cane e potermi godere questo nient'altro perché io ho preso i border colli per godermi questo non per fare il pagliaccio al circo ok non per farli saltare nel cerchio o stronzate varie io ho preso border colli perché mi piace vivermi questo e hanno una buona resistenza per cui la montagna la mia vita e loro ci andavano a pennello e tornando al discorso dopo aver sistemato morfeo preso trinity sono arrivati tutti gli altri poi ho scelto di trasformare questa passione in lavoro ma per vivere la vita non per addestrare il cane e renderlo obbediente a quello che io gli chiedo perché cane non ti deve niente anzi sei tu che devi tutto al cane imparare conoscere rispettare crescere evolverti invece no siamo ancora lì col giornale sulle pacche sul culo minchia eh Gabriella i miei due beagle mica camminerebbero così piano e li perderei i due beagle vanno educati come vai educata anche te io ho un cliente a Roma che ha un beagle che cammina che è uno spettacolo e sta anche libero tempo te vivo nel bosco e questa la mia situazione naturale questo ha 12 anni cammino nel bosco con uno due o tre cani liberi e mi seguono da un annetto una vicina ha deciso che i miei cani le danno fastidio e pretende che gli metta il guinzaglio lo faccio pure ma non mi sembra una situazione naturale fuori dal centro abitato che ne pensi che le persone hanno problemi punto però cosa ne penso cosa ne penso sinceramente è che il cane purtroppo per legge non potrebbe stare libero neanche qua ma lo faccio perché per me non ha senso andare in giro col cane guinzaglio qua ma allo stesso tempo il cane deve rispettare determinate regole e non andare a dar fastidio ad altri questo è quello che penso sinceramente la mia libertà finisce dove inizia quella di un altro per cui io non so la situazione e non mi interessa neanche entrare nel particolare mi hai chiesto cosa ne penso io ti dico cosa ne penso vedi come arriva la moto ed è normale la reazione dei cani che vi ho fatto vedere apposta perché sennò poi certo i cani non ci fai mai vedere la reazione che ha fatto avete visto quanto è passata vicino alla moto sarà passata a 15 cm ci sta un conto è insegnare al cane a gestire le emozioni e anche questi momenti senza parlare senza dare comandi l'unica parola che ho detto è urca perché stavo per cadere questo è vita ok non è addestramento questa è vita per cui il resto sono scuse e ma i tuoi cani e ma i miei cani non farebbero questo e si se uno non impara non può aiutare il proprio cane a stare meglio per cui tornando al discorso cosa ne penso di quella situazione è che il mio cane come avete visto non deve andare a rompere le scatole a quel tizio che va in moto punto perché il tizio ha diritto ad andare a moto come io diritto a vivermi la mia vita la mia libertà finisce dove inizia quella di un altro semplice io poi non conosco la storia ripeto non mi interessa saperlo perché a me di fare pettegolezzi o cose del genere non mi interessa quello che mi interessa è farvi comprendere che se uno conosce la psicologia e la comunicazione canina può ottenere dei risultati che prima era convinta di non poter mai ottenere per cui lì sta a voi io quello che posso fare è darvi gli strumenti come lo faccio da ormai cinque anni e l'ho fatto con più di cinquemila clienti se non funzionasse non avrei aiutato più di cinquemila persone e cani anzi cani veramente non di più perché oramai le persone hanno più di un cane per cui ho aiutato molti più cani se non funzionasse non sarei qui per cui a voi la scelta ognuno è libero di fare ciò che gli piace però se ti lamenti ottieni poi i risultati che tu hai se invece fai e applichi cambia la situazione io ora mi godo la mia passeggiata la mia domenica vado a fare colazione e poi si lavora buona giornata a tutti buona giornata